ciao anna adesso costruiamo qualcosa costruiamo un viso allora mettiamo un'orecchia un orecchino qui mettiamo un occhio questi sono i capelli cerchiamo altri capelli questo un altro capello ancora più capelli questo facciamo i capelli cerchiamo altri capelli 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 questo lo usiamo anche per i capelli questa grande lo usiamo anche per i capelli qua capelli cerchiamo ancora capelli questi li mettiamo qua così poi cerchiamo ancora dei capelli qua i capelli e un altro sasso per fare i capelli ok così ce ne serve ancora uno qua usiamo questi sassi per fare i capelli grigio dov'è il grigio eccolo qua il grigio un altro grigio e un altro grigio ecco i capelli qua e questa è la anna con l'orecchio qui poi mettiamo le labbra per le labbra abbiamo bisogno di qualcosa di rosso vediamo se troviamo qualcosa di rosso possiamo usare le conchiglie ecco qua le conchiglie rosse ecco qua le conchiglie rosse in cui facciamo le labbra ecco qua questi sono gli occhi ecco ecco ciao ciao Grazie a tutti.